Giada De Blanc e la Gio Volley, come è nato questo connubio? Allora, io sono una grande appassionata di sport, quindi vivo lo sport in prima persona. Quindi fin da piccolina ho iniziato a giocare a pallavolo e crescendo sono andata su sport un po' più selvaggi, tipo il surf. E poi seguo tantissimo le partite di rugby, quindi ho iniziato ad andare alle partite. E mano a mano, che ho apprezzato tantissimo lo spirito che c'è nello sport, mi sono avvicinata anche alla pallavolo. Quindi ho iniziato ad andare anche alle partite di pallavolo e da là è nato quest'amore, questa passione per la pallavolo. E poi la Gio Volley come ti ha contattato? La Gio Volley mi ha contattato perché un giorno sono andata a vedere la partita tramite amici ad Aprilia e ho seguito la B1, ho fatto da madrina. E da lì il presidente Claudio Malfatti, che è un uomo veramente meraviglioso, un gran signore di altri tempi, mi ha parlato e mi ha detto senti Giada, tu sei una ragazza che comunque sveglia, sai quattro lingue, ti piace lo sport, ma perché non facciamo una collaborazione insieme? E io insomma sono stata onorata, felicissima e da lì è nato questo grande amore e ci metto veramente il cuore in quello che faccio. E sono felicissima, sicuramente, di questa nuova avventura perché secondo me l'importante nella vita è metterci passione e cuore. Io spero tantissimo di dare alla Gio Volley cose positive, farla crescere anche a livello proprio nazionale, far conoscere la palla a volo di più, perché è uno sport meraviglioso, uno sport che merita e soprattutto io sono del parere che lo sport nella vita dà tantissimo e dovrebbero iniziare a farlo tutti i bambini, qualsiasi tipo di sport, io ti dico, sono partita magari dal rugby, ma è proprio lo spirito che c'è nello sport, questa aggregazione, questi valori, questi sacrifici, la lealtà, l'amicizia che si crea e tutto questo a me ha fatto veramente impazzire e quindi ho deciso di prendere questa strada e cercare di far crescere il tutto. Sai, al giorno di oggi ci sono pochi valori e quindi lo sport ancora ha quei valori che nel mondo stanno cambiando e quindi ci sono i veri valori che tutti dovrebbero avere, rispetto, sacrificio, lealtà e questo. Quindi consiglio a tutti di fare sport, qualsiasi tipo. Hai conosciuto anche il mondo della televisione, tramite anche tua madre, ma anche tramite le tue esperienze, un mondo totalmente appunto forse diverso e lontano da questi valori. Ritorneresti in tv oppure preferisci dedicarti allo sport e non ti manca? Allora, no, io non ho, diciamo che io sono partita con, io facevo la modella, quindi con le sfilate, ho fatto piazza di Spagna. Quindi un mondo completamente diverso. Sì, esatto. Poi dopodiché ho fatto un programma che si chiamava Chiambretti C'è, con Chiambretti, e da lì mi ha chiamato l'avventura per fare l'Isola dei Famosi e siccome era un'avventura selvaggia e appunto c'erano tantissime prove fisiche che poi io vincevo perché sempre lì ritorna il fatto dello sport. E ho deciso di farlo ma sempre come un gioco e quindi secondo me la gente da casa magari ha visto anche questo, che io non sono una di quelle ragazze che sta lì e sgomita a tutti i costi per stare là. Ho dei valori molto importanti che al giorno di oggi è difficile trovare, quindi diciamo che non sono per la superficialità. Però quando capita qualcosa di carino, io ho fatto tantissima recitazione, ho fatto teatro, quando ci sono conduzioni le facce, cioè il mondo della televisione mi piace, però è una cosa secondaria. Quasi un hobby. Io ho scelto questo mondo qua perché rispecchia più il mio essere, quello che poi è la mia anima e quello che realmente sono io. Cioè ho più forze da dare al mondo dello sport rispetto a quello dello spettacolo perché comunque nel mondo dello sport sono stata scelta per merito che sia, diciamo, quindi perché comunque so le lingue, perché ho dimostrato poi tramite ricerca sponsor di organizzazioni di alcuni eventi di essere magari in grado, però piano piano io parto molto umile perché devo crescere tantissimo. Cioè la cosa che ho è la voglia di fare, poi devo dimostrare veramente tanto e anche a livello comunque tecnico, poi c'è Tonino Federici, l'allenatore che mi sta insegnando tutto perché io voglio essere parte integrante anche della squadra con le ragazze e voglio sapere tecnicamente tutto, essere preparatissima perché nella vita sono così, non faccio le cose tanto per fare, devo studiare, cosa che ho fatto anche nel mondo dello spettacolo andando in America con Bernard Diller eccetera eccetera. Cioè sono una persona molto seria. Tua madre cosa dice? Ti preferiva in tv o ti preferisce in questo ruolo istituzionale quasi? Ma guarda lei sa che sono eclettica, quindi posso fare uno e l'altro. Guarda nessuna delle due cose sclude l'altra, nel senso che io anzi cerco, quando vado in tv, almeno ultimamente ho fatto questa cosa, le volte che sono andata ho cercato di nominare la Gio Volley, di parlare della palla a volo e quindi anche un mezzo. Sfrutti anche il mezzo televisivo. Perché comunque a livello nazionale io vorrei far crescere proprio sia lo sport in generale come la palla a volo che la nostra squadra, quindi farla conoscere un po' di più e far avvicinare le persone al mondo dello sport e quindi ai valori giusti. Quando si sta in televisione noi siamo dei messaggi ambulanti, possiamo comunicare delle cose, quindi è importante comunicare qualcosa di positivo alle persone, visto che oggi come vedi purtroppo in televisione a volte ci sono dei messaggi sbagliati, è anche giusto che ci siano persone pulite che possono appunto far sì che ci siano messaggi anche positivi. E quindi non abbandono la televisione del tutto, la uso anche a favore nostro e dello sport in generale. Un'ultima domanda, come ti immagini legata al volley tra qualche anno? Qual è il tuo sogno e l'obiettivo di questa carriera che hai intrapreso? Beh, come ti ho detto prima, io parto molto umile, quindi voglio che siano gli altri, io dico sempre chi si loda si imbroda, quindi per ora sto dimostrando poco a poco alcune cose, la voglia di fare, lo spirito di sacrificio e tutto quanto la voglia di imparare. E poi il resto spero di crescere lentamente, piano piano, sto apprendendo tantissimo anche dai miei colleghi, che ovviamente insomma nel team dirigenziale sono veramente come una famiglia per me, già sai lavorare anche in un ambito dove si sta bene, questo è fondamentale. Quindi io spero di far crescere la Gio Volley anche a livello proprio nazionale, quindi che se ne parli di più. E allora in bocca al lupo per la tua avventura e forza la Gio Volley. Beh, assolutamente, poi viva lo sport in generale, i valori che dà, fate tutti quanti sport, fin da piccolini, è importantissimo. Grazie mille, grazie a te, sei stata carinissima, un saluto a tutti i telespettatori.